Ciao a tutti! Ben ritrovati sul mio canale! Hi everyone! Welcome back to my channel! Oggi impariamo l'alfabeto! Today we're going to learn the alphabet! Nell'alfabeto italiano ci sono 21 lettere e 5 lettere straniere. In the Italian alphabet we have 21 letters and 5 foreign letters. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Vediamo alcune parole che cominciano con queste lettere. Let's have a look at some words that start with these letters. A come albero. B come banana. C come coniglio. My favorite! C come coniglio. D come delfino. D come delfino. E come elefante. E come elefante. F come farfalla. F come farfalla. G come gatto. G come gatto. H come hotel. H come hotel. I come isola. I come isola. L come leone. L come leone. M come mare. M come mare. N come nota. N come nota. O come o come occhi. O come occhi. P come palla. P come palla, Q come quadro, Q come quadro, R come rana, R come rana, S come sole, S come sole, T come tartaruga, U come uragano, V come vulcano, Z come zebra, Z come zebra, non dimentichiamo le cinque lettere straniere, let's not forget the five foreign letters, I lunga, K, W, X, Y, vediamo alcune parole che cominciano con queste lettere, let's have a look at some words that start with these letters, I lunga come jeep, K come karate, W come website, X come xilofono, Y come yogurt, Y come yogurt, queste ultime cinque parole non sono delle parole italiane, ma derivano da lingue straniere, sono cioè dei prestiti. Va bene, per oggi mi fermo qui, se vi è piaciuto il mio video non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al mio canale per non perdervi tutti gli altri video. E noi ci vediamo mercoledì prossimo, ciao! Ciao a tutti, alla prossima! Bye! Bye